benvenuti all'ascolto di radiogiano public history welcome to radiogiano public history benvenuti all'ascolto di radiogiano public history benvenuti amici e amiche di vite parallele radiogiano public history a questo nuovo episodio del mio bellissimo podcast in studio ospite di questa puntata particolare il nostro presidente regista editor tuttofare di radiogiano public history la nostra magica radio web marco lodi buonasera marco lodi buonasera katia è veramente un piacere essere interrogata da lei 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 è in studio da roma vero si da roma ci diamo del tuo va bene ci diamo del tuo prego prego allora allora diamo un po di cenni di biografici del nostro magico presidente allora marco lodi nasce a roma nel 1957 laureato con l'ode in scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale i suoi studi giovanili sono orientati verso l'elettronica il suo grande amore la sua grande passione e il suo primo lavoro è stato infatti come tecnico riparatore presso la boxon di roma gli anni passano per tutti e marco da elettronico diviene informatico e programmatore nel 1994 lavora presso l'università degli studi di roma 3 e diviene responsabile tecnico del laboratorio cartografico giuseppe caraci all'inizio degli anni 2000 si appassiona e si interessa di storia militare e diviene presidente anche della sezione di roma della associazione combattenti guerra di liberazione e poi vice presidente nazionale per l'arma aeronautica nel 2016 nasce l'associazione culturale biblioteca lorenzo lodi di cui parleremo dopo allora buonasera marco lodi buonasera buonasera saluta i nostri tantissimi ascoltatori caro marco ciao cari ascoltatori vi saluto a tutti quanti uno per uno però non ho preso appunti riguardo i vostri nomi però insomma siete tutti nel mio cuore ecco ecco un abbraccio collettivo quindi io direi marco come di consuetudine facciamo un qualche minuto di pausa oggi il gruppo che delizierà le nostre intervalli e rocking for decades vamos marco con more than you can chew sei all'ascolto di radio giano public history iscriviti al canale bene bentornati a vite parallele radio giano public history ospite di oggi il nostro super presidente marco lodi che anche appassionato di rock come avete ascoltato è anche un grande esperto di dischi e di vinili allora marco quando hai cominciato ad appassionarti di tecnologia e di radio eri un fanciullo eri un bambino è stato in età adulta prego grazie grazie della parola grazie katia e allora sì era un bambino come tutti quanti noi no siamo bambini e ci appassioniamo diciamo a qualche cosa e io mi sono appassionato immediatamente della radio di allora sia anche negli anni 60 fine anni 60 quando mio cugino mi regalò una vecchia radio sony tutta scassata io la riparai e la notte mi ascoltavo radio tirana radio mosca nasceva anche supersonic che era appunto una trasmissione della rai di musica leggera per ragazzi che se non ricordo male iniziava alle 8 alle 9 di sera fino a mezzanotte adesso non ricordo bene gli orari perché è passato qualche giorno e quindi questa cosa di ascoltare musica di avere queste apparecchiature sotto mano poi diciamo negli inizi degli anni 70 quando nascono anche le radio libere l'interesse aumenta perché queste radio libere che sono nate in modulazione di frequenza insieme ai miei compagni amici anche di scuola che facciamo tutti elettronica ci siamo avvicinate sia le radio private e sia anche le tv private quando allora c'era tipo capodistria la uomo tv e cose similari quindi tutto ciò che riguardava la comunicazione con la comunicazione che non era più il libro quotidiano stanno nascendo diciamo nuovi mezzi di comunicazione appunto la radio e le televisioni private quindi non era più la rai che aveva il monopolio ma appunto queste tv locali queste radio locali mi ricordo alzando un po la testa sui palazzi vediamo queste antenne gigantesche che avevano una potenza massima avevano una potenza massima di 5 watt mi ricordo quindi 5 watt voleva dire che si propagavano nell'etere nell'aria di non so un chilometro due chilometri poi si incontravano un ostacolo rimbalzavano e quindi poi si perdevano quindi la comunicazione era un po quella un po garibaldina possiamo dire però insomma è stato un'ottima iniziativa perché poi anche queste radio private trasmettevano musica anche musica alternativa insomma è stato un bel periodo storico diciamo ecco e quindi insomma non solo la musica ma comunque anche la politica voglio dire anche il pensiero politico si è diffuso tanto che insomma ricordiamo anche bastato insomma che con la sua voce la sua radio eh aveva eh dato inizio a una rivoluzione giusto sì certo perché appunto le cosiddette radio libere appunto la parola libera no quindi qualsiasi persona che avesse non so qualche soldo in tasca si poteva comprare un po di attrezzature un amplificatore un giradischi bastava avere qualche vinile in più e trasmettere quindi tutti potevano parlare quindi poi ci fu venne introdotta anche una legge insomma per poter come dire regolarizzare questa questa diffusione improvvisa di comunicare notizie di qualsiasi tipo a 360 gradi e quindi poi sono sì vai 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 no dico appunto poi sono state introdotte delle leggi particolari per poter regolamentare la cosa come adesso per le radio web ad esempio come siamo noi non c'è una regola non c'è un regolamento quindi tutti quanti possono comprare un amplificatore un microfono attaccarsi a internet e parlare di qualsiasi cosa ecco quindi diciamo che il podcast è la puntata successiva delle radio nel senso che comunque la liberalizzazione della parola sotto un'altra forma però ne parleremo dopo ne parleremo dopo appunto parlando di radio Marco come è nata l'idea innanzitutto dell'associazione culturale biblioteca Lorenzo Lodi di cui insomma voglio che ci parli e voglio che ci parli anche insomma di questo anche in fausto epilogo che è stato veramente un peccato una perdita importante insomma per la cultura e poi com'è nata l'idea proprio della radio web giano public history prego sì beh ho tempo certo vai beh la cosa appunto come è stato detto nell'introduzione mi interesso di storia militare diciamo agli inizi degli anni 2000 quindi mio padre ex combattente infatti poi l'associazione prese il nome di mio padre la biblioteca stessa Lorenzo Lodi Lorenzo Lodi era tuo papà perfetto era mio padre sì non è che ho intitolato io la biblioteca mio padre sono stati i suoi soci i suoi amici a intitolare a lui quando mio padre scomparse nel 2008 perché lui ebbe quest'idea di creare questa biblioteca certo diciamo che il tutto è nato nel 2005 lontano 2005 io sono faccio parte di questa associazione di questi ex combattenti anche se non ero un combattente però c'era mio padre all'epoca vivo combattente conosco altre persone altre persone ex combattenti chi sta nell'esercito chi stava nell'aeronautica chi stava nella marina eccetera nel 2005 organizzano questo viaggio sulla linea gotica e mi portano con loro quindi mi fanno vedere i posti dove hanno combattuto quindi andiamo a Imola Bologna Castel San Pietro eccetera diciamo tutte quelle cittadine paesini lungo la via Emilia dove appunto le truppe italiane a fianco degli alleati combatterono insomma contro il nazifascismo e cosa succede che al ritorno verso Roma di questa dopo questa settimana che abbiamo passato lì sulla linea gotica mio padre gli venne questa idea ha detto ma dovremmo creare una biblioteca affinché i giovani possano ricordare quello che abbiamo fatto noi e da lì appena rientrati abbiamo cominciato a raccogliere qualche qualche libro ricordo che stavamo a via sforza a Roma dentro la caserma medici un locale molto piccolo senza bagno molto umidità eccetera creiamo questa piccola biblioteca mio padre nel frattempo purtroppo muore nel 2008 nel 2007 vengo eletto presidente di questa sezione romana dell'associazione combattenti mio padre se ne va e io continuo questa questa sua idea e proprio in quel momento quando mio padre scomparse i suoi come dire commilitoni gli intitolarono appunto la biblioteca perché lui aveva avuto questa questa idea certo nel 2011 viene inaugurata la biblioteca con mi pare 7 800 titoli adesso non mi ricordo bene c'è anche un video su youtube sull'inaugurazione della biblioteca e la cosa va avanti quindi apriamo dei tirocini con Roma 3 sapienza quindi vengono anche studenti giovani che si avvicinano diciamo a questa storia un po diversa dove non era non era e non è tuttora raccontata nei libri di storie scolastici e quindi molti molti ragazzi si meravigliano perché dicono ma come anche noi italiani abbiamo combattuto dopo l'8 settembre bene sì ben 500 mila soldati italiani hanno combattuto a fianco degli alleati nelle varie armi diciamo e questi libri marco scusami venivano dati a voi come regalo cioè o li acquistavate allora i libri li andavamo a prendere alle altre associazioni combatentistiche dharma che stanno lì a via sforza quindi siccome ogni associazione combatentistiche dharma ha una sua produzione bibliografica ma sono poi produzioni diciamo che non vengono diffuse a livello di negozio oppure messe vendita su internet come succede oggi ma vengono date soltanto ai soci quindi diciamo una storia tra di loro e io invece era un po di un'idea diversa ho detto dobbiamo scavalcare le mura delle caserme e far conoscere la storia dei soldati italiani ciò che hanno fatto e così insomma la storia poi ha travalicato diciamo le mure perimetrali delle caserme e quindi sono aumentati gli iscritti anche di persone cittadini che non erano magari coinvolti direttamente quindi la cosa andava molto bene la biblioteca poi si è ingrandita abbiamo avuto anche dei contributi da parte della regione lazio per comprare libri poi ci siamo talmente ingranditi che nel 2014 2015 non troviamo più e quindi ci siamo un po guardati intorno dopo ci venne fatta questa offerta di una scuola periferica di roma di trasferire tutti i nostri beni verso la loro biblioteca perché appunto volevano che mettessimo a posto anche la loro biblioteca non soltanto la nostra quindi nel 2018 sì nel 2018 andiamo a questa scuola che si chiama esito tecnico industriale giorni intitresimo a via di torsapienza 160 il preside di allora ci accoglie a braccia aperte facciamo una convenzione tutti contenti tutti felici e andiamo in questa scuola per farla breve arriva arriva il cosiddetto covid quindi la scuola è rimasta chiusa due anni se non ricordo male però cosa succede che noi nel 2020 pensiamo di aprire una radio web ma questa era già un'idea di tanti anni prima però adesso si erano creati i presupposti per creare una radio quindi nel 2020 esattamente il 29 febbraio del 2020 perché era il centenario della nascita di mio padre quindi è stata una data scelta apposta abbiamo creato questa radio web che si chiamava all'epoca radio giano non public history ma storia memoria ricerca storia memoria ricerca certo e abbiamo iniziato a pubblicare un po di podcast quindi poi passeremo nel dettaglio come si crea come nasce un po dopo dopo quindi avete cominciato con i podcast relativi a queste argomentazioni giusto quindi la guerra giusto diciamo che stavamo no stavamo no assolutamente perché stando nella scuola il covid abbiamo parlato tramite la radio appunto di covid infatti ci sono ancora dei podcast di covid abbiamo coinvolto sia i docenti i ragazzi della scuola abbiamo fatto anche dei podcast mettendo a confronto come dire le come possiamo dire le precauzioni che ogni scuola aveva preso no ti ricordi le mascherine avete fatto anche una forma di servizio civile anche insomma quindi abbiamo messo a confronto come la scuola giovani tedesimo preveniva il covid e l'università degli studi Roma 3 perché io in quel momento lavoravo a Roma 3 quindi ho coinvolto anche i miei colleghi che si occupavano di sicurezza e quindi c'è stato questo scambio diciamo di opinioni tra università e scuola media superiore abbiamo poi la radio web è una cosa fantastica perché poi il passaparola è incredibile quindi abbiamo messo poi a confronto ragazzi di Roma con ragazzi di Milano con ragazzi di La Spezia con ragazzi di Bologna insomma è stata un'esperienza veramente incredibile abbiamo parlato anche dei corsi serali che venivano svolti lì alla radio alla scuola scusa insomma abbiamo parlato molto di scuola ecco parlavamo quindi avete coinvolto queste istituzioni assolutamente queste istituzioni sì le abbiamo coinvolte in primo piano anche il preside poi collaborava con i suoi vocali insomma ci ringraziava per quello che facevamo poi quando abbiamo ripreso diciamo quando è finito il covid purtroppo alcune cose non sono andate bene ancora mi sto cercando di capire quale sia il vero motivo il vero motivo diciamo quell'ufficiale che hanno bisogno di spazio e a luglio del 2022 ci danno il primo segnale di sfratto che doveva mandare via 448 a luglio del 2022 perché hanno bisogno di spazi a quel punto non potevamo fare altro che allungare un po' il brodo e ho detto sì va bene però dateci almeno un anno in modo che possiamo trovare altri locali certo anche perché il materiale era enorme da trasferire eravamo arrivati a circa ecco bravo quanti volumi c'erano? a circa 15.000 titoli tra volumi poi avevamo anche una mitoteca avevamo anche un piccolo laboratorio per digitalizzare i VHS, i Betamax insomma anche gli 8 mm facevamo anche dei servizi non soltanto il servizio di prestito facciamo parte dell'SBN del servizio bibliotecario nazionale avevamo aderito anche al prestito interbibliotecario insomma di servizi ce n'erano tanti che facevamo ecco certo è arrivato questo primo sfratto poi per farla breve a gennaio 2023 ci è arrivata addirittura la diffida e quindi 31 gennaio 2023 quindi pochi mesi fa abbiamo chiuso definitamente la biblioteca e tutti i beni li abbiamo poi spalmati con altre associazioni quindi nulla è andato perso quindi questo patrimonio comunque adesso è in mano insomma diviso in altre associazioni tre associazioni sì due di Roma e una di Rieti quindi è andato tutto quanto in buone mani ecco diciamo così hai un rammarico quanto ti è dispiaciuto? beh questa è una domanda che mette il dito nella piaga insomma eh lo so lo so dispiaciuto? ho tanto di più 12 anni di biblioteca certo certo anche perché avevamo anche molte cose rare particolari poi con le donazioni fatte dalle famiglie le famiglie poi ti donano appunto cose che non trovi nei negozi neanche li trovi su internet sono cose proprio personali che ti donano non so il berretto del padre che aveva combattuto la decorazione il manifestino mi ricordo una signora ci ricorda un manifestino che era stato gettato nella grande guerra su Vienna da da D'Annunzio quindi delle cose veramente originale poi quindi assolutamente dei documenti incredibili immagini il rammarico è anche per non aver trovato nuovi spazi perché è difficile Marco trovare nuovi spazi beh sì anche qui dovremmo aprire un altro capitolo ma no bisogna dirlo sulle istituzioni pubbliche le istituzioni pubbliche parlano tanto bene poi però diciamo ai fatti spariscono tutti quanti insomma ho girato il municipio per carità ho trovato persone molto molto disponibili molto solidarie certo però non hanno hanno un po' tutti le mani legate ecco diciamo così che purtroppo la cosa non è andata a buon fine sono andato anche in Campidoglio ho chiesto anche all'Ater addirittura mi sono rivolto quindi delle case popolari perché so che loro hanno dei locali anche per le Ollus quando noi eravamo Ollus adesso siamo a PS però più o meno la stessa cosa certo però non è stato potuto far niente e alla fine abbiamo abbandonato diciamo la biblioteca la quale biblioteca insomma poi alla fine ci impegnava al 99% perché tenere su una biblioteca non è semplice ecco e immagino immagino comunque vive spartita insomma in altri in altri luoghi nulla è perduto nulla è perduto e Marco allora quando invece questa appunto è diventata Public History che cos'è la Public History se ce lo vuoi spiegare e spiegarlo ai nostri ascoltatori sì diciamo che nel 2021 a maggio del 2021 siamo diventati abbiamo abbracciato la Public History quindi da storia, memoria e ricerca abbiamo abbracciato la Public History io ancora lavoravo a Roma 3 e stando in un dipartimento umanistico il dipartimento di studi umanistici un mio amico professore mi dice sai Marco la settimana prossima farò dovrò insegnare la Public History ho detto di cosa si tratta si tratta appunto che è un modo diverso di fare storia in modo che la storia che viene insegnata diciamo nelle istituzioni come appunto le università deve scendere tra virgolette in piazza nel senso che deve travalicare le mura universitarie e far conoscere la storia coinvolgendo direttamente poi i cittadini quindi le persone quindi tutti noi che parliamo facciamo storia poi ci sarà un coordinatore come chiamo io ma viene chiamato un termine tecnico Public Historian il quale coordinerà diciamo queste racconti che verranno fatti dal pubblico dai cittadini in modo che possa nascere una storia comune tra tutti quanti e quello che appunto noi facciamo adesso tramite la radio poi prossimamente anche tramite un blog che verrà aperto sul nostro sito dove appunto noi cerchiamo di coinvolgere la maggior parte dei cittadini del pubblico appunto dei cittadini che ci ascoltano li rendiamo protagonisti li rendiamo protagonisti anche tu con i tuoi podcast che fai conoscere a tutti quanti appunto poeti scrittori di varia natura insomma dai più conosciuti ai meno conosciuti certo oppure quelle persone appunto che non andiamo a cercare che pensiamo che abbiano un certo potenziale e sia anche giusto che vengano conosciuti appunto anche questa è una ricerca che noi facciamo tutti quanti in modo da dare la possibilità di farsi conoscere attraverso i nostri microfoni assolutamente allora Marco guarda io farei un'altra pausa beviamo un sorso d'acqua my sober face continuiamo con walking for decades vamos Marco si un attimo che chiamo regista va bene regista Marco ci sei mandi in onda sei all'ascolto di Radio Giano Public History per la visione Bene, bentornati a Vite Parallele. E' super puntata con il nostro presidente della magica radio, Giano Pavic History. Allora, Dottor Lodi, le chiedo, le do di lei, allora te lo chiedo Marco, perché facendo appunto tanti podcast anch'io, con questa meravigliosa radio web, ho tanti ospiti che si spaventano, anche gente che lavora in importanti aziende di comunicazione, non faccio nomi, che non sanno assolutamente che cos'è un podcast. Allora, caro Marco, ci spieghi cos'è tecnicamente un podcast ai nostri ascoltatori e quali sono i mezzi tecnologici necessari per produrre un podcast. Prego. Bene, allora, non faccio la storia dei podcast perché ne sento di tutti i colori. Ma sì. Non arrivo subito ai mezzi tecnici che servono per fare, creare un podcast perché ce ne stanno di tutti i tipi e qualità, basta andare su un social, io quando vado sui social, avrò un social, paf, mi arriva l'annuncio pubblicitario, vieni da noi così sarai subito un podcaster, vieni da noi così sistemiamo la tua voce per parlare, avrai una voce calda. Allora, cosa facciamo noi, cosa sono i nostri podcast, cos'è un podcast e come noi li produciamo questi podcast? Allora, noi siamo un'associazione, ma io intendo questa associazione un laboratorio, in che senso? Un laboratorio dove ci sono delle persone che hanno le loro capacità, che le mettono a disposizione di tutti, c'è un confronto tra i soci delle loro capacità, quindi c'è chi sa presentare, chi è il tecnico, abbiamo l'archeologo, il letterato e via di seguito. I quali appunto, ripeto, mettono a disposizione le loro capacità, gratuitamente, e i nostri podcast non sono neanche monetizzati, quindi poi parleremo anche della monetizzazione dei podcast. Certo. Prima di creare un podcast bisogna avere un'idea, cioè cosa vogliamo raccontare, la storia di chi? La storia di Tizio, di Caio? Vogliamo presentare la storia di un ex combattente che, non so, che adesso ne stiamo facendo parecchi, dell'isola di Rodi? Possiamo fare la storia di un combattente della linea codica? oppure come fa Katia che presenta libri sul cinema, libri su, addirittura, come si dice, sulle pietanze, no? Poi sì, è terrorismo, insomma, tocchi tantissimi, tantissimi, diciamo, tantissime argomenti. Esatto. Quindi una volta che abbiamo individuato cosa raccontare, bisogna costruire la cosiddetta scaletta, come facciamo tutti noi, appunto. Noi utilizziamo la musica, anche la musica, vi ricordo che bisogna fare attenzione perché sono coperte da copyright, quindi attenzione al copyright di tutto ciò che noi trasmettiamo. E bisogna trovare quindi dei siti che ti offrono musica gratuita, però anche quei siti che ti offrono musica gratuita è gratuita fino a un certo punto, perché poi ci sono dei canali che ti contestano i diritti, tipo YouTube. Quindi bisogna cercare un portale dove scaricare musica, prezzi contenuti e che siano anche di buona qualità, non soltanto a livello, diciamo, proprio del brano musicale, ma anche di qualità tecnica. Certo. E noi abbiamo stipulato un accordo, anzi un abbonamento più che accordo, un abbonamento a pagamento con Epidemic Sound. Epidemic Sound è una multinazionale svedese, se non ricordo male, che dà spazio a musicisti di tutti i tipi e qualità. Infatti anche queste musiche che stiamo trasmettendo le abbiamo scaricate da Epidemic Sound, è musica rock anche di buona qualità, mi sono piaciute e difatti adesso le stiamo trasmettendo in questa puntata. Certo, ricordiamo che c'è anche dei bei intermezzo, il blues, c'è anche il tarantelle italiane abbiamo messo. Sì, sì, abbiamo musica reggae, blues, hip hop, c'è di tutto, effetti speciali, di tutto. Effetti speciali, di tutto, benissimo. Hanno una bancata di mensa, bisogna avere la pazienza di saper cercare, ecco, di quello che vogliamo far ascoltare, perché ogni podcast è diverso dall'altro, quindi nel momento che noi andiamo a scegliere un brano musicale lo dobbiamo abbinare poi all'argomento che si andrà a discutere, non è che possiamo prendere il primo che ci capita e lo buttiamo lì, insomma. Assolutamente. Quindi anche lì c'è tutta una ricerca da fare, magari per trasmettere tre brani ne dobbiamo ascoltare 15-20 e da quei 15-20 poi ne diriamo tre, generalmente tre o quattro dipende dal tipo di podcast che andiamo a trasmettere poi per qualche secondo, quindi non è che trasmettiamo tutti i due, tre, quattro minuti. Come? Appunto, stiamo spiegando che è un lavoro innanzitutto quello che noi facciamo, perché anche se è volontariato è un lavoro, un lavoro di ricerca, un lavoro di cura e spieghiamo anche ai nostri ascoltatori, una volta registrato, una volta tu con ovviamente la strumentazione metti a posto la voce, controlli se ci sono errori, delle pause, delle sovrapposizioni, quindi tu sei, dai diciamo il tocco finale, questi podcast vengono, queste registrazioni vengono messi su delle piattaforme, vuoi spiegarci come Marco? Sì, allora. Cosa succede? Ecco. Allora, per impiantare una radio web basta avere dai 5-600 euro, anche un migliaio di euro, ecco, con un migliaio di euro possiamo impiantare una radio web, basta comprare un buon mixer, un buon microfono, avere poi a disposizione un buon computer e basta, e poi bisogna fare i soliti abbonamenti, quello che ho detto, appunto su delle piattaforme in modo che loro ti distribuiscono il podcast che tu vai a creare, perché il podcast lo potresti anche, come dire, pubblicare sul tuo proprio sito. Io ho un sito web e pubblico i miei podcast, però rimangono lì sul nostro sito, non vengono diffusi su altre piattaforme, quindi noi abbiamo sottoscritto un abbonamento a Spreaker, ma Spreaker già lo conoscevo quando ancora beveva latte, sì sì, era appena nato Spreaker, già lo conoscevo proprio dai primi passi che ha fatto, mi sono ricordato di questa piattaforma la quale offriva a suo tempo diverse soluzioni, non soltanto i podcast, ti dava anche le musiche, ti prestava anche le voci professionali, tante cose, e credo che sia una start-up italiana, poi tra parentesi, Spreaker. Ah, quindi è fantastico, insomma. Fino a qualche tempo fa, perché adesso è stata comprata da una multinazionale americana. Ah, e si vede che aveva successo, insomma, l'idea era buona, ecco, quando gli americani i cani comprano vuol dire che l'idea è buona. E di fatti poi hanno tolto tutti questi servizi che ho elencato, cioè voci professionali, musiche, eccetera eccetera, adesso producono, cioè trasmettono soltanto podcast, punto e basta. Quindi cosa succede? Quando, a secondo del piano che noi andiamo a scegliere, abbiamo dei servizi che ci dà Spreaker, in questo caso ci condivide, mi pare, su dieci piattaforme internazionali, quindi io quando pubblico il podcast, oltre a mettere il titolo, la descrizione, quando voglio che venga pubblicato, perché possiamo anche, come dire, calendizzare le pubblicazioni. Certo. E automaticamente vengono condivisi su alcune piattaforme e social, quindi come social abbiamo i soliti Facebook, Instagram, TikTok anche, Telegram anche? Telegram e LinkedIn. Quindi c'è un'ottima diffusione, più le altre piattaforme però. Sì, le altre piattaforme o portali che sono Amazon Music, Apple, Spotify, Hearth, John Savant, eccetera eccetera. Quindi questi nomi che dico sono portali americani, portali indiani, perché anche in India noi abbiamo un ottimo ascolto, ci sarà una comunità italiana che ci ascolta. È vero, è vero, è incredibile. Infatti l'India è sempre tra i primi quattro ascoltatori, no? Noi salutiamo i nostri ascoltatori indiani. Ascoltatori dall'India, chissà chi sono, magari scriveteci voi dall'India. Ma infatti, scriveteci. Scriveteci. E quindi una volta che abbiamo pubblicato il podcast, poi dopo qualche giorno scattano anche le statistiche di ascolto, di geolocalizzazione, quindi da ulteriori servizi, spiega, non soltanto la pubblicazione, ma ti dà anche queste tipologie di informazioni che ci fanno capire appunto chi ci ascolta, da dove ci ascoltano e anche a che ora ci ascoltano. Anche quello possiamo sapere. Quindi un'analisi proprio approfondita di tutto quello che succede dopo l'emissione della registrazione. È importantissimo perché così ci dà, come dire, uno stimolo in più per migliorarci. Anche per quanto riguarda le pubblicazioni dei podcast, no? Ti ricordi, Katia, noi pubblicavamo i podcast alle 18 di sera, no? È vero, è vero. E questa cosa poi ci ha dato ragione perché da alcune analisi che ho visto online, praticamente gli ascolti sono maggiori, da mezzogiorno alle 3, perché è la pausa pranzo, durante la pausa pranzo ascoltano i podcast. È vero, tanta gente, il podcast, io guarda, veramente parlo con una marea di persone e ma tu fai podcast, sì, ma c'è una marea di gente che ascolta i podcast adesso, è una cosa incredibile. Sì, 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 specialmente dopo la pandemia c'è stato il boom del podcast. Il boom, il boom, il boom. Infatti io volevo chiederti, Marco, che bilancio faresti della tua attività di regista e editor appunto dei podcast di Radio Giano Public History. Bah, diciamo decisamente positiva perché il podcast, cioè la mia attività non si, tra virgolette, riduce soltanto alla registrazione, alla sistemazione ma anche all'aggiornamento di ciò che succede nel mondo, specialmente negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti è nato, sono nati podcast con la Apple, quindi lì c'è un mercato continuo, una frenesia continua di monetizzare il podcast proprio al massimo, proprio più soldi si fanno e meglio è. Certo. Difatti negli Stati Uniti i podcast sono molto utilizzati per le attività sportive, per lo sport. È vero, è vero, è vero, è vero. Dove lì girano tanti soldi e hanno anche molti contributi, finanziamenti, quindi ma non possiamo paragonarci a loro perché il mondo italiano e europeo è completamente diverso da quello americano. Quindi ancora il podcast, se tu dici in Italia e in Europa, comunque anche a questi livelli è molto sottovalutato ancora? Non sottovalutato, non è ancora conosciuto, come hai detto tu prima, ho detto sai faccio dei podcast e ti rispondono che cosa sono i podcast appunto, quindi ancora c'è molta non conoscenza di cosa è un podcast, anche perché chi si avvicina per la prima volta alla creazione di un podcast oppure di trasmettere via web? Secondo me dovrebbe avere anche un'infarinatura un po' di informatica, perché non è che io mi improvviso podcaster o tecnico di una radio. Diciamolo, diciamolo, diciamolo. Saper distinguere un file web da un mp3, da un mp4, saper dividere l'audio dal video, bisogna sapere tante cose, sapere utilizzare anche i software, non soltanto Audacity che è un software diciamo gratuito per poter sistemare i podcast, i file audio, ma ci sono tanti altri software molto più potenti da Audacity che costano qualche soldo, però effettivamente ti trasformano l'audio in un audio altamente professionale. Poi ultimamente c'è anche l'intelligenza artificiale che si sta dedicando ai podcast, ho provato qualche sito ma sinceramente non mi convince ancora l'intelligenza artificiale perché tu inserisci, carichi il tuo file appena creato e loro lo sistemano, ma come vogliono loro lo sistemano, non come lo vuoi tu, quindi non ti danno la possibilità poi di intervenire manualmente, è tutto in automatico, l'automazione per adesso non mi piace, quindi preferisco metterci le mani e sistemarlo a secondo del mio orecchio, ecco. Assolutamente. Se ascolto bene anche l'altro ascolterà bene, ecco. Sono d'accordo anche io, invece dei tra virgolette video podcast che secondo me non sono più podcast. Cosa ne pensi dell'associare anche una faccia, cioè i visi degli ospiti, ma quello non è più un podcast, giusto Marco? Il videopod, appunto videopodcast, nasce dove? Negli Stati Uniti. Siamo sempre lì perché lì devono pensare a fare soldi, quindi secondo me poi viene snaturato perché non è più un videopod, videopod come ne chiamano loro, cioè podcast ti dà subito l'idea di... No, diciamo, quando tu dici pod, quando tu parli di podcast, no? Generalmente il podcast dovrebbe avere una durata minimale, cioè dire tante cose in un quarto d'ora. Sì. Ci sono proprio degli studi, no? Fatti da qualcuno che non cito, che un podcast fatto da una voce unica dovrebbe durare dieci minuti, non di più perché poi snacca. Due persone, come siamo io e te adesso, una mezz'oretta, già abbiamo sforato perché siamo a 40 minuti, tre persone, 40 minuti, quattro persone, un'ora e via di seguito perché c'è da essere sempre un cambio di voce, perché altrimenti poi diventa pesante poi l'ascolto. Un'ora la stessa persona è ovvio, no? Però noi abbiamo dimostrato che facendo anche pod da 50 a 60 minuti l'interesse c'è. C'è, c'è, c'è. Perché c'è il dibattito, c'è la comunicazione, c'è lo scambio tra gli ospiti. Esatto. Comunque riguardo al videopodcast non mi convincono tanto, anch'io ho fatto qualche videopod, ma per adesso non sono convinto. Ci sono i video di YouTube e se guardassero i video di YouTube. Ma infatti, cosa stai imparando, Marco, da questa esperienza e da questa attività culturale che sta coinvolgendo tante persone in questo momento, tra le quali me? Cioè, ti aspettavi dei risultati del genere? Ti aspettavi una crescita del genere? Beh, essere sincero o no? No, specialmente quando stavo nella scuola, dove appunto lì nella scuola erano molto resti ai podcast, addirittura avevo proposto di portare la redazione in un'aula. Trovai una professoressa di italiano e storia, era contentissima, poi questa cosa non è andata a buon fine perché nelle scuole ci sono tanti problemi, ecco, diciamo così e lì mi fermo. Diciamo che lavorare, diciamo, un po' dietro le quinte è molto interessante perché intanto io mi devo ascoltare tutti i podcast, ecco, mi devo ascoltare. Certo. Ne abbiamo prodotti, ho fatto il conto, oltre 250 podcast di cui tu ne fatti 60, questo è il sessantunesimo. Questo è il sessantunesimo, sì. Quindi mi ascolto conosciuto via telematica in maniera, via telematica a distanza, tante persone che non avrei mai conosciuto, ecco, come succede a me, succede a te, succede a Francesco. Certo, certo. A Fabiana, insomma, agli altri nostri soci. E poi il bello della radio. E cosa stai imparando, Marco, da questa esperienza? Cosa, c'è un qualcosa che hai, che stai assimilando, che ti è rimasto impresso? Sì. Sì, che bisogna avere molta pazienza. Ah beh, quello sì, è vero. Quella sì, molta pazienza bisogna avere. Quello sì, quello lo stiamo imparando tutti, Marco, perché è una prova anche per me. Sì, sì. Molta pazienza, pubbliche relazioni, ho sempre fatto pubbliche relazioni, diciamo, in presenza, queste sono pubbliche relazioni a distanza, al buio, perché le facciamo via telefonica, e quindi è un'altra tipologia di esperienza. Come dicevi te, molte persone poi magari sono un po' diffidenti, no, a parlare al telefono, dicono magari in presenza sarebbe meglio, però diciamo che... Però poi si sciolgono, poi si sciolgono. Sì, esatto. Quello è il bello. Sì, quello lo sentiamo, lo sentiamo anche noi quando parlano, no, che all'inizio sono un po' titubbanti, poi si sciolgono. Poi si lasciano andare. E poi gli diciamo, guardate che l'orologio gira. Non mordiamo, non mordiamo, difatti poi è bello, è bello, è bello. Allora Marco, io direi di fare l'ultima pausa, così abbiamo la bocca un po' allappata, la nutriamo di acqua. Sempre Rocking for Decades, uno dei gruppi preferiti di Marco Lodi, Separated from the System. Vamos, Marco Lodi, regista. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History, ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Grazie a tutti. Rieccoci cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Giano Public History, battute finali con il nostro presidente, editor e regista Marco Lodi. Allora Marco, indirittura d'arrivo, cosa consiglieresti a chi vuole cominciare a registrare dei podcast e anche magari a collaborare con Radio Giano Public History? Beh, allora consigli, consigli, la prima cosa avere passione, passione e non arrendersi diciamo magari al primo insuccesso, oppure perché magari non ho una voce ammaliante, oppure oddio il mio mixer si è impallato, adesso come devo fare, devo chiamare un tecnico, perché appunto non sono un tecnico. il mio telefono è caduto e si è rotto. Allora, chi vuole iniziare, gli consiglio magari di contattarci, perché noi appunto, come ho detto all'inizio, siamo un laboratorio, un'associazione laboratorio, ci contatta, sia per posta elettronica, faccio un po' di pubblicità, infochiocciolagianophps.it oppure ci può telefonare o mandare un messaggio whatsapp, se ha timidezza di parlare con me, al 351-892-1867 e da lì possiamo iniziare a capire come funziona e come si crea un podcast. Quindi dal lavoro, diciamo, di programmazione, di cosa vogliamo raccontare, una volta che abbiamo individuato l'argomento, si butta giù un brogliaccio, insieme lo facciamo, quindi non sarete abbandonati, lo faremo insieme e faremo anche delle prove di registrazione e poi di diffusione del podcast. Ci sono io, c'è Katia, c'è Francesco, c'è Fabiana, ci sono tante altre persone, quindi non sarete abbandonati, state con noi, tutto gratuitamente, perché noi non facciamo pagare nessuna tassa. È vero, è vero. Lo voglio sottolineare. No, siamo un'associazione no profit. No profit, anzi che si vuole iscrivere e lo può fare tranquillamente senza versare una lira, quindi si iscrive gratuitamente e godrà anche dell'assicurazione perché è obbligatorio assicurare i soci, quindi se cade si fa male e viene anche rimborsato. Se faccio male io qualcuno lo metto. Se tu picchi qualcuno… Se c'è qualche ospite che mi fa arrabbiare Marco. Vabbè, gli potresti mandare un virus sul telefono. È vero. Però non l'ho detto, non l'ho detto. Noi non l'abbiamo detto, comunque volevo anche io rassicurare, insomma se volete aggiungervi a questa meravigliosa famiglia, dove anche si discute, perché anch'io con Marco ne ho di scontri, però sono discussioni che formano, discussioni che insegnano a me e insegnano a Marco. Però anch'io ho iniziato da niente, nel senso è stato Marco che mi ha intercettata su Facebook, mi ha chiesto se volevo provare, io non avevo mai fatto radio nella mia vita, e pareva che l'avessi fatta da una vita e quindi mi è piaciuto talmente tanto che ormai sono a gennaio, entro nel terzo anno. Quindi è una storia incredibile la mia. Io credimi Marco, più ci penso e più dico, mai avrei pensato nella mia vita anche di poter intervistare determinati personaggi, come scoprirete anche uno dei personaggi di dicembre, un tema importante come il terrorismo, io mai nella mia vita avrei pensato di poter intervistare un giudice così importante. Però con Radio Giano, Public History e grazie a Marco Lodi questo è successo, grazie alla passione, all'impegno e alla volontà, questo è ovvio, perché se non c'è quello Marco non si va da nessuna parte, giusto? E' costanza, è costanza. E' costanza, è costanza. Che non è facile da avere, la costanza. Assolutamente, vuoi proprio alla fine aggiungere qualcos'altro? Sì, posso dire che ci stiamo avvicinando ai 14.000 download, ci ascoltano tutti i continenti, esclusa nessuno, perché recentemente anche in Angola ci ascoltano, l'Africa era un po' abbandonata, ci ascoltano comunque in Giappone. Ottimo. In Giappone, anche in Russia, in Ucraina, in questi paesi un po' così, poi quasi tutta l'Europa, negli Stati Uniti ci ascoltano, diciamo ecco dalla parte dell'America e gli Stati Uniti, il Canada, Messico, in Brasile, Argentina e Cile. Fantastico. E' un po' così a memoria, poi a fine anno uscirà proprio la gradatoria, diciamo, delle nazioni da dove ci ascoltano, ecco. Assolutamente. Hai in serbo per Natale un podcast di auguri, a cui magari possono anche partecipare i nostri ascoltatori? Per Natale ci stiamo pensando, negli anni passati l'abbiamo già fatto, che contattavamo tutti i nostri ascoltatori, abbiamo una lista broadcast su WhatsApp, dove invitiamo tutti quanti, quindi è il bello di questa radio che tutti possano partecipare, a leggere una poesia, un racconto, un aforismo, un qualcosa sul Natale. E probabilmente nei prossimi giorni lo faremo, quindi manderemo questo messaggio a tutti i nostri iscritti su WhatsApp e magari poi lo pubblicheremo anche su Facebook e altri social. Ecco, magari ricorda anche appunto i social dove è presente la nostra associazione per comunicazioni, appunto. Su tutti, maggior parte. Tutti? Sì, tutti quanti. Instagram, Facebook, LinkedIn. Telegram anche. Telegram, TikTok anche. Perfetto. Quindi siamo su tutti i maggiori social. I giovani? Vogliamo coinvolgere i giovani? Avvicinatevi. I giovani cominciano ad avvicinarsi a questa realtà. Devo dire che recentemente è uscito un podcast appunto sulle donne violentate della Seconda Cora Mondiale che sono quattro studentesse di Roma 3 Sapienza. Bene. Quindi diciamo, prossimamente anche nel blog che sta nascendo di Public History ci saranno dei contenitori che parleranno di Public History e verranno curati proprio da ragazzi universitari che stanno frequentando i corsi di Public History. Fantastico. Come dicevo prima, il nostro associazione è un laboratorio, quindi servirà a mettere in pratica ciò che studiano all'università, specialmente le discipline umanistiche che hanno sempre poca possibilità di mettere in pratica. e noi gli diamo questa possibilità di mettere in pratica gli studi che fanno appunto all'università, come dicevo prima. Quindi un'occasione in più per mettere in mostra le proprie doti, insomma. Le proprie capacità, esatto. La propria capacità, la propria cultura ed è una bella scommessa. Allora Marco, guarda, io ti ringrazio per aver accettato questa intervista, però era doveroso anche dopo due anni fa scoprire ai nostri ascoltatori il nostro lavoro, quello che comporta, quali appunto doti bisogna avere, quali conoscenze, bisogna avere un'esperienza sicuramente dal punto di vista dell'elettronica e dei computer, bisogna avere capacità, bisogna avere lingua, destrezza di lingua e bisogna avere passione. Quindi io ringrazio il nostro presidente Marco Lodi. Grazie, Katia, di questa opportunità. Marco, vuoi salutare qualcuno? Quindi, che dire, ci troviamo tra qualche giorno perché abbiamo altri tre podcast da registrare, uno più bello dell'altro e finiamo quest'anno in bellezza. Quindi quest'anno quanti podcast in totale sono tra i miei e quelli degli altri miei colleghi? Eh, supereremo i 250, adesso, quindi va bene. No, perché volevo aprire una breve parentesi, no? Il fatto, prima ho parlato della monetizzazione, no? Perché molti specchietti per la lotola, ne ho, dice, diventa podcaster e farei un sacco di soldi. È vero, è vero. Allora, non è vero, non farai un sacco di soldi. Ti farai, posso dirlo, un bel mazzo, prima di fare qualche centesimo, no? Tanti soldi. Certo, 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 certo. Perché molte piattaforme, tra le quali appunto anche Spotify ultimamente sta monetizzando, insomma, c'è tutta un, una, come dire, un mercato in agitazione intorno a questi, questi podcast, no? Perché tutti, come se tutti quanti, come se il podcast fosse diventato il santo gralla, no? È vero, è vero. E attenzione, perché da una statistica che ho letto, per vedere qualche soldo, bisogna almeno scaricare 5.000 podcast al giorno, al giorno. Noi 13.000 erotti, ci avviciniamo a 14.000 in quasi tre anni, quindi c'è da essere una produzione H24, se non di più. E poi di argomenti che interessano. Bravo, bravo, bravo. E non è facile. E non è facile, ma il problema è che ormai si pensa che tutto ciò che viene fatto online, influencer, appunto, questi personaggi social, sia tutto facile. Sì, esatto. E invece, purtroppo, le favole non esistono, non sono quelle che vi raccontano. Esatto. Perché la realtà è che c'è un lavoro, un grande lavoro, nessuno si improvvisa. C'è un lavoro dietro. E poi, magari, c'è qualcuno che ci ascolta, magari qualcuno è interessato al nostro format e chi lo sa, magari può succedere qualcosa. Quindi, tutto può succedere. Intanto, noi andiamo avanti così che andiamo bene. Esatto. Va bene, Marco. Allora, grazie ancora. Io saluto il pubblico di Vite Parallele e ci ritroveremo tra qualche giorno con altri podcast a chiusura di un anno fantastico. Ciao, Marco. Un abbraccio e a presto. Vamos con la sigla. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Grazie per aver ascoltato Grazie per aver av audito Grazie per aver ooh